Vai lì! Fermati qua! Che figata! Questo è uno spettacolo, fermati eh Ciri! Mortacci, dove verrò su? Riprendi, riprendi! È accesa? Questa, vabbè, tanto basta che... Abbassa? No, bravo! Ancora un po'? Bravo! Spettacolo! Ma che si vede l'abbazia di Vertematte là in fondo? Ciao! Che spettacolo! Spettacolo! Questa cadrea l'Ult però è costitante!